Siamo pronti! Questa è tutta colpa tua! Colpa mia? E certo, perché ti ho dato l'anello! No, come osi! Molto bene, sai cosa fare, vero? Non litigaremo mai più! Ok, ottimo! E così tu sei il fucile ad acqua più potente del mondo! L'esoscheletro è in grado di prendere una frustata e continuare a fare bolle d'acqua! Gli do cinque stelle! Ehi, torna qui! Ma che diamine è quello? E perché è così affamato? Esiste una leggenda su una creatura chiamata Hydromander Vive sotto queste cascate ed è arrestata e ibernata per migliaia di anni Si sveglia solo per fare cose importanti come mangiare! Oh, che iella per noi! Essere qui proprio quando si è svegliata! Sfortuna! O qualcuno superimpulsivo senza filtro ha fatto qualcosa per svegliarla! Non so di cosa parli! Ok, ok! La mia ben tuizione potrebbe avermi indotto a svegliare dal suo sonno un mostro tentacolare affamato! Come potevo saperlo? Di cosa abbiamo parlato ieri? Di consultarti sempre con me! Ricordi, sono il tuo filtro! Non è il momento di discutere, ragazzi! Quel mostro si sta per mangiare l'intera città! Ben! E ora per pranzo abbiamo... Sushi! Lasciami andare! Non respiro! Devo... Un momento! Il nuovo alieno respira acqua! Oh, bene! Passa a farcela! Ok, allora... Che ne dici? Sì, ma che succede se io... Ah! Non potrei sfuggire a questo mulinello! Nutrizione completata! Ben! Dov'è andato? Sta nuotando controcorrente! Andiamo! Non posso crederci! Sono stato sconfitto da quel mostro rana! La città distrutta! Un mostro che si risveglia! È tutto per la mia stupida bentuizione! Sono felice che tu sia salvo, cugino! Nessuno è ancora salvo! Sembra che il mostro sia diretto al lago Eri! Lago Eri! Nessun bagnino in servizio! Avevi ragione! Mi serve un filtro! Mi aiuterai! Guarda! Sembra sia ferito! Oh! Non ci credo! Sta andando giù! Ormai è storia! Ce l'hai fatta, Ben! Yeah! Uh-huh! Oh sì! Sono il migliore! Non potete fermarmi! L'ho sistemato! Oh-oh! Io non festeggerei ancora! Perché no? Ormai è fatta! L'ho distrutto! Un hydromander! Non lo hai distrutto, Ben! Si sta moltiplicando! Eh? Deve essere un'altra cosa che fa quando si sveglia! Si moltiplica! Oh! Ciba! 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 E ora cosa devo fare? Usa chi conosci da cima a fondo! Inferno, per esempio! Ok! Sì! Inferno! Spero che vi piacciono i classici, gente! Perché ho un amico pronto ad aiutarmi chiamato... Palla di fuoco! E qui ne abbiamo anche altri! Uh! Anche loro chiamati Palla di fuoco! Ok! Ecco che arrivano altri classici! Ecco qua! Mi sono preso cura di... Ops! Gwen! Ce ne sono ancora! E non sono dei classici! Uaah! Uaah! Un Carl... E non sono dei... Dei casi tutto...